Più o meno un paio di mesi che stiamo ricercando due sfigure, sia in sala, quindi un cameriere e un aiuto cuoco, eppure non si trovano. Probabilmente i ragazzi di oggi non hanno più voglia, fondamentalmente non lo so. Un paradosso. In tempi di alti tassi di disoccupazione e crescente aumento di famiglie che vivono in ristrettezze economiche, è davvero difficile riuscire a spiegarsi come laddove ci sia un'offerta di lavoro non ci sia anche una fila di candidati pronti a coglierla. Eppure non si tratta né di impieghi faticosi né umili. Le posizioni aperte in questione rientrano nel campo della ristorazione, camerieri, personale di sala e aiuto cuochi. Professioni, peraltro, che dovrebbero essere il naturale sbocco nel mondo del lavoro per almeno buona parte di tutti quegli studenti che hanno scelto un percorso scolastico nell'enogastronomia. E in provincia sono ben quattro gli istituti che offrono questo tipo di formazione. Forse non c'è ancora la voglia di fare la gavetta, di iniziare magari dal basso per poi arrivare chiaramente dove guardano oggi con i programmi televisivi. E dire che gli apprendisti chef fanno la fortuna di numerosi format televisivi. Una volta spente le telecamere, evidentemente, la vita di cucina perde un po' di fascino. La giornata inizia alle 10 del mattino, quindi a organizzare la sala, a organizzare tutto quello che serve per gli ospiti, fino alle 3 del pomeriggio, poi riprendono più o meno alle 6, 6 e mezza, per poi finire intorno alle 11. Poi è chiaramente idem per la cucina, che magari può finire leggermente prima. Però diciamo che sono orari impegnativi, bisogna stare in piedi, soprattutto in cucina. C'è il caldo, c'è lo stress, i fornelli, i coltelli. Però insomma, come ambiente purtroppo è questo. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche e entrare in cucina o in sala. Si faccia avanti, quindi, chi ha voglia di fare? Noi cerchiamo un aiuto cuoco e un cameriere, quindi cameriere e cameriera. Potete mandare una mail a infochiocciola.filcom.com Mandateci dei curriculum, presentatevi, almeno presentatevi, perché molti mandano curriculum e poi non si presentano. Quindi fatevi vedere se ci siete. Grazie a tutti.